Buonasera, scusate pecore, posso farvi delle domande? E' vero che il vaccino non protegge dal virus? Allora perché lo avete fatto? Vi siete fidati della scienza? Giusto, volevate viaggiare liberamente? E' vero che avere paura è il segreto della vita? Occorre una chiara, severa coscienza raziale che stabilisca non soltanto delle differenze ma delle superiorità nettissime Andrà tutto bene!